Salve a tutti, in questo video vediamo come reperire il modello della nostra scheda madre con Windows 10 senza utilizzare programmi esterni. Ebbene sì, sapete che ci sono quei programmini esterni che vi consentono di avere tutta la panoramica dell'hardware del computer, sono molto utili, però oggi vediamo come trovare il modello senza aver bisogno di questi programmi. Allora, ci basta entrare nel prompt dei comandi, quindi andiamo qua nella barra di ricerca e scriviamo cmd. Clicchiamo su prompt dei comandi e questo è il prompt. Allora, adesso io vi scrivo questo comando nella descrizione del video così che potete fare proprio copia e incolla volendo, oppure potete vederlo. Il comando è questo, allora, wmic baseboard get product, manufakturer version, serial number. Quindi fate copia e incolla oppure controllate nella descrizione, questo è il comando che vi restituirà tutto quanto. Facciamo invio ed ecco qua. Questa è la mia scheda madre, MSI, la marca, modello B75MA, linetta P45, MS7798. Questo è il modello della scheda madre, quindi può essere utile per andare a reperire dei driver, se vogliamo aggiornare il BIOS, eccetera, eccetera. Spero quindi di essere stato utile, un saluto a tutti. Spero di essere utile. Grazie.